Maranello, 22 agosto 2017, il santo bevitore resta alla Ferrari per un altro anno. Era nell'aria, Sergio Marchionne lo aveva fatto chiaramente capire nella domenica trionfale di Budapest. Ma che senso avrebbe cambiare Kimi Raikkonen? Nessun senso, infatti. Il mio amico finlandese è l'ultimo campione del mondo al volante della rossa. Uno dei pochi esseri umani. Nove in tutto, a potersi freggiare di tale impresa. Di più. Kimi, il pilota più vecchio in pista, è innamorato del cavallino. Voleva chiudere carriera a Maranello. Lo sta facendo alla grande, e con spirito di sacrificio. In questa stagione poteva vincere a Monte Carlo, e soprattutto in Ungheria. Si è sacrificato per la scuderia. Mai una polemica, un grande cuore, un talento. Un talento purissimo.